Gentili telespettatori, buona giornata. Vi ho parlato dell'Italia nei video precedenti esclusa dalle nomine, un paese fondatore, il paese che ha la guida del G7, il paese che ha fondato l'Unione Europea, il paese che tra gli altri ha fondato la Nato, ha fondato le Nazioni Unite insieme agli altri, un paese che fa parte del G7, i grandi sette dell'economia mondiale viene bellamente ignorato in Europa per le nomine, viene etichettato come paese populista di estrema destra, quindi non un paese a guida conservatrice, in Europa la destra la chiamano i conservatori, l'Italia viene etichettata come un paese di estrema destra, è quindi escluso dai grandi tavoli. Quello che aveva sperato la sinistra per tanto tempo oggi si è materializzato. La Meloni fa un messaggio a mezzanotte e 31 dicendo che le nomine sono sbagliate nel metodo e nel merito. Infatti l'Italia vota contro le nomine e si astiene su Ursula von der Leyen, perché alla fine Ursula von der Leyen ha aiutato l'Italia con il piano Mattei, ha fatto portare i paesi del Nord Africa a ricevere tanti miliardi per fermare le partenze. All'1.36 di notte la Meloni non ci può pensare e di nuovo fa un'altra dichiarazione. Dice mi rispettano perché non ho una doppia faccia. Dice penso che ci sia maggiore autorevolezza nell'esprimere le proprie posizioni motivandole con chiarezza, con lealtà, perché io sono abituato a fare così piuttosto che a non farlo. Io mi sono guadagnata un rispetto tra i miei colleghi anche perché sono abituata a dire le cose come la penso quando non sono d'accordo. Dice Giorgia Meloni in un punto stampa al Consiglio europeo a Bruxelles, quando non sono d'accordo non dico di essere d'accordo ai miei colleghi e di non essere d'accordo alla stampa italiana. Ho detto in Parlamento che non ero d'accordo, ho detto al Consiglio europeo che non ero d'accordo e le persone mi rispettano in Italia soprattutto ma anche all'estero per questo perché non ho una doppia faccia. Bene, è importante non avere una doppia faccia, è importante dire quello che si pensa senza offendere nessuno. La Meloni dice mi rispettano perché non ho una doppia faccia, va benissimo, però l'Europa non ha rispettato l'Italia perché viene definito un paese a guida di estrema destra. Quindi sono contento che rispettino la Meloni perché non ha una doppia faccia, ma non rispettano l'Italia perché dicono che è un paese a guida di estrema destra. E poi Macron dice che ci vuole rispetto per Meloni, l'Italia è un paese amico, quindi naturalmente i leader europei hanno la doppia faccia. La doppia faccia qual è? Prima escludono l'Italia dalle nomine, escludono l'Italia alle nomine, perché come vi dicevo definiscono il paese populista di estrema destra. Però poi dopo aver escluso l'Italia dicono che ma come noi abbiamo rispetto per Meloni, l'Italia è un paese amico, è un paese fondatore, quindi l'ipocrisia poi della politica europea fa raccontare una storia diversa, cioè si esclude la Meloni e l'Italia e poi si dice rispetto per Meloni, rispetto a paese amico, paese fondatore, ci togliamo il cappello ma intanto non partecipa alle decisioni. E così Macron dice non posso rispondere al posto dei miei colleghi, credo che occorra avere dei dibattiti rispettosi e credo che sia stato raggiunto un ampio consenso e sono sicuro che si troverà un modo per andare avanti, ma rispetto completamente la posizione della nostra collega Giorgia Meloni che rappresenta un paese importante, amico della Francia, a cui teniamo l'Italia, dice Emmanuel Macron in merito alla possibilità di convincere la Premier Giorgia Meloni a votare a favore della Presidente della Commissione europea von der Leyen. Io credo che in un'Europa che ci impone il green, che non è sbagliato andare verso la tutela del pianeta, del verde eccetera eccetera, ma se c'è un'Europa che ti dice che entro quella data i tuoi cittadini devono spendere 30, 40, 50, 100 mila euro per rifarsi la casa e quei soldi sappiamo che nessuno ce li ha o chi ce li ha non li vuole spendere per rifarsi la casa e quando vediamo che un'Europa ti impone un qualcosa di irrealizzabile, perché in Italia non si potrà fare mai una cosa del genere, assolutamente, quando vediamo un qualcosa del genere ci chiediamo che cosa serva un'Europa del genere, poi se ci isolano a questo punto credo che sarebbe la cosa ideale mandare tutti a quel paese e dire noi usciamo dall'Europa, ah ma poi il latte costa il doppio, ma poi la benzina costa chissà quanto, ma poi di qui, ma poi... Insomma l'Italia ha passato i secoli ed è ancora qua, quindi possiamo farcela anche ad uscire dall'Euro, a mandarli tutti a quel paese, così decidono fra di loro, fanno quello che hanno voglia e noi ci facciamo la nostra strada, dove il governo italiano, lo Stato italiano comincia a ristamparsi una sua moneta. Rischi, certo, fare una cosa del genere è rischiosissima, potrebbe portare il paese al fallimento in poche settimane. Certo che è rischiosissimo e nessuno si prenderà mai la briga di fare uscire l'Italia dall'Europa con il rischio di fallimento in pochi giorni, perché la nuova moneta italiana potrebbe perdere tanto di quel terreno trasformando il debito pubblico che abbiamo in un boomerang che ci fa fallire in pochi giorni. Lo so, nessuno farà mai uscire l'Italia dall'Europa, però diciamo che è un bel sogno quello di mandarli tutti a quel paese e dire fatevi come ha fatto l'Inghilterra, la Brexit, beh, loro l'hanno fatto perché non avevano un debito pubblico come il nostro, ovviamente, e quindi per loro il rischio era molto più basso che per noi. Un paese indebitato come il nostro molto probabilmente fallirebbe, però è bello pensare di poterli mandare tutti a quel paese. Arrivederci a tutti e grazie.